E se verranno a chiederti del nostro amore, 130 come gli anni che in campo rosso-blu sono all'interno della gradinata nord di Marazzi che dà spettacolo con un grifone davanti ai nostri occhi che calpesta un meraviglioso pallone di cuoio con quelli, i cento anni e quei trenta di più dalla nascita di questa gloriosa squadra in un Marazzi che promette spettacolo e dove sono tanti anche i seguaci del diavolo Buonasera, gentili ascoltatori dallo Stato Luigi Ferraris di Genova Buonasera da Enzo Melilli e da Francesco Rebice che grazie alla collaborazione tecnica di Graziano Notaro sono pronti a raccontarvi questo anticipo dell'ottava giornata del campionato di calcio di Serie A Genoa-Milan, Cucuese, Slalom si accentra, mette il pallone in mezzo per Ocaforra il tentativo due volte la parte del giocatore svizzero col pallone che alla fine viene abbrancato in presa dal portiere Gianno Martinez Musa al limite, sovrapposizione ancora di Florenzi che sembra inesauribile nella sua corsa cross in mezzo, ancora Raffaleo che schiaccia il pallone con la punta delle dita Martinez la mette in corner, Frendrup ancora Gudmundson, ancora Dragussini che si può avvicinare al limite dell'aria e carica il silenzio e tiro che parte e c'è la deviazione prima quella di Reinders e poi quella di Magnana quando il pallone sembrava inesaurabilmente destinata alle spalle del portiere del Milan che con un guizzo, uno sforzo, un colpo di Reni è riuscito a mettere sul fondo e quindi nel corner con la punta delle dita del guantone della mano destra, insomma un'opportunità per Lila Genova alla 31esima e questa volta la conclusione di Dragussini sembrava vincente dopo la deviazione di Reinders che aveva di fatto creato grandi difficoltà a Magnana, un tiro già di per sé pericoloso e Magnana è riuscito con il doppio sforzo a metterlo sul fondo, spalle la porta Gudmundson, si gira il cross che parte, colpo di testa di Ecopan che anticipa tutti, mette sul fondo, ma opportunità per il Genova e questa volta Musa e Magnana erano in ritardo rispetto all'entrata attaccante della formazione di casa calcio di punizione in fuori del Milan, battuto da Reinders sulla silenzio, ecco Eternandez il pallone in verticale per Rafa Leal, il portoghese, lato voto della rigore, si ferma, fa cadere a terra un avversario, traversone, secondo palo non ci arriva, Jovic per l'incornata di fronte a Martinez pallone che poi scivola sulla corsia esterna larga, quella destra, passo doble di Polisi retro passaggio sul Calabria, rimane largo Musa, vediamo se parte un altro cross è così, infatti a mezza altezza, pallone in aria, a sinistro, rete, ha segnato il Milan Pulisic, esattamente al minuto 42, nel corso della ripresa, cambia il parziale a Genova è passato il Milan, dopo tanto attaccare, magari in maniera disordinata, magari in maniera non così organica il traversone in mezzo per Polisi che questa volta si è liberato, bene dell'avversario sul traversone a destra del connazionale Musa, ha fermato la sfera con l'interno del destra e con il sinistro spalla la porta, la girata dal dischetto del rigore, verso il secondo palo, lì dove non poteva arrivare infatti non è arrivato Martinez, il Milan è in vantaggio a Genova per 1-0, il marcatore al 41esimo, Polisi il pragmatismo paga, si può tentare il turnover ma poi alla fine la partita in questo momento la sta risolvendo uno dei cosiddetti titolari, anche se spesso poi le seconde linee possono valere i cosiddetti big, i cosiddetti titolari intanto fa il saluto militare americano, Pulisic, complimentato da Leao, da tutti lo sgomento per i giocatori del Genova che veramente stavano giocando un'ottima partita stavano tenendo 1-0-0 e meritavano un punto finora Insomma, il Milan però ha fatto capire anche stasera come una squadra che magari trova delle difficoltà ad attaccare l'area di rigore avversaria, riesca a sfondare grazie a un guizzo dei suoi solisti Pulisic è entrato in campo nella ripresa, anche qui adesso si sta verificando qualcosa non so esattamente cosa, dico la verità, ma insomma è ovvio che l'arbitro adesso vada grazie all'aiuto dei suoi colleghi Alvara a vivi sezionare tutto ciò che è accaduto probabilmente l'ha toccata con un braccio Pulisic dopo averla controllata con l'interno del piede destro il pallone gli è finito sul braccio destro, sul polso interno, sulla parte interna prima di segnare prima di segnare è ovvio che questa è di difficilissima interpretazione, non vorremmo essere nei panni del direttore di gara perché obiettivamente controllo, spalle alla porta sul cross che arrivava dall'estra di Musati Pulisic con l'interno del piede destro, pallone che gli scivola sul sinistro ma prima di allivargli proprio sullo scarpino sinistro rimbalza in qualche maniera sulla parte interna del polso destro della giocatore maglia numero 11 del Milan e lì bisogna verificare, bisogna capire, bisogna in qualche modo interpretare ciò che è accaduto e ripetiamo, vista la dinamica dell'azione, non è assolutamente facile tant'è che il confabulare all'interno del campo tra giocatori del Genoa, tra giocatori del Milan tra il direttore di gara è veramente molto molto intenso per ricorrere a un termine di cui si abusa probabilmente anche parlando di calcio ma insomma è ancora lì il direttore di gara ad ascoltare ciò che gli viene detto dal VAR ciò che gli viene evidentemente recapitato negli auricolari dagli uomini, dai suoi colleghi che sono incaricati di disenzionare le immagini proprio nella sala controllo del VAR ma è una cosa molto molto complicata ancora ripetiamo perché insomma bisogna capire quanto quel controllo di mani, quanto quel tocco probabilmente che c'è stato con la parte interna del polso destro sia stato utile gol che viene confermato, il gol è stato confermato quindi alla fine quel tocco con le mani non è stato secondo il direttore di gara secondo il VAR utile a posizionare il pallone sul piede sinistro di Pulisic il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Genoa grazie alla rete di Pulisic lungo confabulare al VAR, nullo controllo, lunga verifica alla VAR per poi vedersi il gol convalidato il Milan che evidentemente assieme ai suoi mezzo ai tifosi ha avuto un periodo di grandissima ansia per quella decisione che non arrivava ha iniziato il 51esimo, si andrà avanti ripetiamo fino al 52esimo se non ci sarà ulteriore extra time da giocare da qui al termine della partita una partita che il Milan sta conducendo per 1-0 a Marassa i danni del Genoa è partito, intanto è con il pallone che rimbalza il limite, esce Magnanne di testa, forse commette fallo, porta vuota ancora di testa Magnanne a travolgere, Gudmundson, la porta rimane vuota il Genoa però non riesce ad affondare ci sono due uomini a terra per il Genoa l'arbitro che lascia proseguire l'azione, anche qui tutto da verificare immaginiamo adesso, è un catino bollente Marassi l'arbitro dice che è il momento di fermarsi perché Ekuvan ha preso con una botta in testa ha preso una colpa al ginocchio anche Magnanne l'arbitro va a verificare cosa è accaduto alla portiera del Milan ma diciamo che la questione più seria riguarda l'attaccante del Genoa tant'è che si sbracciano, anche gli uomini di Stefano Pioli per chiamare i medici, per andare a soccorrere il numero 18 della formazione di casa insomma io credo che su Ekuvan il fallo dal limite ci stia tutto insomma entra in maniera... col ginocchio alzato sul collo di Ekuvan sul collo di Ekuvan preso in pieno prima che colpisse il pallone all'estremo difensore del Milan io credo che anche questa cosa verrà visitata, verrà rivisitata al VAR insomma immaginiamo che queste azioni siano in qualche modo appunto sotto l'occhio del video assistant referee anche perché è l'uscita di Magnanne ecco qui Valvar va a vedere l'arbitro cosa è successo scontro tra Magnanne e Ekuvan uno scontro molto violento diciamo che il ginocchio del portiere del Milan era molto molto alto e che è stato colpito in pieno il giocatore del Genoa poi c'è stato il colpo di testa quindi ha toccato il pallone all'estremo difensore del Milan ora tutti vanno ad assediare l'arbitro lì nei pressi delle panchine che sta cercando disperatamente di capire cosa deve fare vediamo cosa ha deciso si avvicina al limite dell'area di rigore poi facendo che ha visto lui e dice che c'è un cartellino sicuramente per un giocatore del Milan e ci sarà calcio di anzi no rosso per Magnanne eh sì perché insomma l'uscita è stata molto molto pericolosa dobbiamo dire sicuramente involontaria sicuramente involontaria non voleva sicuramente far male Magnanne all'avversario siamo chiari e precisi intanto c'è la calcio di punizione dal limite in favore del 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 Genoa ma è chiaro che il fallo su Ekuvan è stato molto anche piuttosto anziogeno da raccontare eh per come è maturato in campo una un'immagine non bellissima perché insomma è uscito col ginocchio alto Magnanne il ginocchio alto il pieno riso ecco per dico ai più ai più anziani tra i nostri ascoltatori Martina e Antonioni Martina e Antonioni quel famoso episodio purtroppo a Firenze dove rischiò la vita lì le conseguenze furono molto più gravi per Giancarlo Antonioni qui per fortuna si è alzato Ekuvan ma ripetiamo è stato insomma un momento abbastanza particolare ricordiamo ad Antonioni salvò la vita il medico sociale del Genoa Pierluigi Gatto Pierluigi Gatto una uscita molto assolutamente involontaria è ovvio che Martina non volesse far male ad Antonioni così come stasera Magnanne non si sognava minimamente di far male ad Ekuvan però è altrettanto vero che sono di quelle azioni quegli scontri molto molto difficili molto molto particolari è arrivato il rosso diretto per il portiere del Milan scontro a Ekuvan veramente molto pericoloso peraltro Ekuvan non aveva difese perché guardava il pallone davvero sfortunato Ekuvan che era appena tornato a giocare dopo un periodo di inattività per un infortunio e quindi gioco che riprenderà con un calcio di punizione in fuori del Genoa intanto siamo al 55esimo la partita ovviamente non può durare fino a domani mattina ma è ovvio che insomma ci sarà tantissimo da recuperare non so quanto si riprenderà con un calcio di punizione dal limite in favore della Genoa pallone leggermente decentrato a destra quindi ideale per una sinistra intanto va in porta Giroud a sostituire Mignan perché Pioli aveva esaurito le sue sostituzioni esaurito le sostituzioni Olivier Giroud si improvvisa stasera portiere partita vecchi tempi al Luigi Ferrari di Genova tra Genoa e Milan ora Giroud fa il portiere il cartellino rosso per Magnane che così come Ternandes dovrà saltare la partita con la Juventus e questo riguarda quindi una partita che dovrà seguire a questo impegno del Milan a Genoa è Gudmundsson che si incarica di andare a calciare questa punizione da posizione molto iutta dobbiamo dire barriera del Milan molto molto preoccupate Gudmundsson sul pallone espulso Magnane Olivier Giroud in porta sta succedendo di tutto a Marassi il Milan conduce per 1 a 0 vi raccontiamo questo calcio di punizione in diretta in favore del Genoa Gudmundsson sul pallone barriera del Milan con 4 uomini più un coccodrillo più Tomori leggermente decentrato a far da guardia agli attaccanti rosso-bru parte con Muzzo pallone su terra attraversa dopo la deviazione il giocatore il Milan colpo di testa ancora di Tomori che mette in angolo sul tentativo di incornata da parte di Tosbi vicinissimo al gol del pareggio il Genoa che ora potrà cercare di sfruttare questo tiro dalla bandierina sono minuti palpitanti quelli finali qui alla Luigi Ferraris di Genoa nella sfida tra Genoa e Milan è stato salvato dal suo incrocio dei pali Olivier Giroud che si improvvisa portiere il portiere del Genoa Martínez in area di rigore il Milan che conduce per 1-0 il Genoa che attacca il pallone alto in area il colpo di testa ha provato a Dragosina al limite poi il tentativo di girata da parte di Frendrup che mette ancora la sinistra per Gudmund una porta attraversa in mezzo in qualche modo Calabria ad allontanare il Milan a cercare il contropiede non c'è il portiere c'è solo Frendrup c'è però Raffaleo che si incarica di andare a catturare la sfera c'è un altro cartellino che si alza all'indirizzo del portiere del Genoa a doppia munizione e quindi rosso incredibile se c'erano cose da raccontare poche nel corso del primo tempo e per metà della ripresa qui a Genova nel finale sta succedendo di tutto ora anche Dragosin che è un giocatore di movimento o magari un suo compagno di squadra deve andare in porta a sostituire Martinez che è stato espulso per doppia munizione e anche in questo caso dobbiamo dire insomma una partita a vecchi tempi ci sarebbe anche sadiscutere il fatto che l'arbitro poteva concedere la norma del vantaggio perché il Milan era palla al piede con Raffa Leao senza il portiere dalla parte opposta ma insomma intanto siamo al cinquantottesimo minuto nel corso del secondo tempo dieci contro dieci Milan in vantaggio per un a zero in questo caso però entra il secondo portiere in Leali ed escede Vinter perché aveva ancora a disposizione la sostituzione quindi Alberto Gilardino è qui di dentro Leali e quindi la portiere di ruolo Genoa che attacca Ecco Banelitaco sta per arrivare alle sue spalle un compagno arriva in uscita Girù la parte vuota Girù incredibile quello che è riuscito a fare Olivier Girù in questa occasione perché sembrava ormai superato dall'avversario è andato per due volte con le mani a ferrarle l'impeto aggualtando il pallone all'interno della sua area di rigore ecco come un centroanti può essere decisivo da portiere ripetiamo qui a Marassi sta succedendo di tutto intanto siamo al sessantesimo il rimbio di Girù non precisissimo in questa occasione rimane nella propria metà campo Musacca allontana la sfera la cattura Dragusin va a sinistra a cercare Vasquez Vasquez che è pronto al cross ecco lo che parte dell'area di rigore del Milan si alza Tosbi colpisce di testa ancora Girù a fermare dopo un rimbalzo il pallone è finita il Milan ha battuto il Genoa per 1-0 anche Stefano Pioli all'esultare in campo tutti i giocatori lo sono i che vanno da Olivier Girù che è stato assoluto protagonista della partita nel finale in pochi secondi sull'arrivo del numero 17 del Genoa anzi sul numero 27 37 chiediamo scusa Puskas è riuscito per due volte a togliere il pallone dalla disponibilità per poi depositare alle sue spalle una partita gentile ascoltatori in cui è successo veramente di tutto del cui commento affidiamo al nostro collega Enzo Melillo quando si dice che una parata vale quanto un gol fatto mai come in questo momento è vero la situazione paradossale di Girù in porta con Martinez che cercava di fare il centroavanti un punto che una vittoria meritata alla fine dalla Milan per quanto aveva fatto vedere ma anche la Genoa avrebbe meritato a questo punto però alla fine perché veramente è andato vicinissimo al pareggio prima con la traversa poi con la prudezza finale di Girù il Milan certo ha fatto vedere maggior classe ma il Genoa non ha affatto demeritato ha fatto vedere quanto sia difficile anche per le grandi di giocare contro la squadra rosso-blu il Milan che ritorna in testa alla classifica a 21 punti con un Girù festeggiatissimo che viene osannato da compagni e dai giocatori dai tifosi ma un Genoa che esce a testa alta altissima e che farà soffrire veramente tante squadre intanto si rivede qui l'uscita di Girù coraggiosissima uscita due volte la prima su Puskas la seconda su Gudmundsson che aveva colto la traversa sul calcio di punizione deviata un giocatore del Milan con Olivier Girù fuori causa le squadre rientrano negli sfogliatori hanno fatto feste i giocatori del Milan si riliscono in capanello gli uomini di Alberto Girardino evidentemente per congratularsi con loro stessi e per comunque andare a ricevere l'applauso veritatissimo del loro pubblico a me non resta che ringraziare Gentile Ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica Graziano Notaro per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca Enzo Melillo Francesco Repice nel ribadirvi che il Milan ha battuto il Genoa Ammarassi per 1-0 con una rete di Pulisar al 41esimo e con un finale veramente d'altri tempi un finale rocambolesco acquisendo il diritto di posizionarsi in solitario in metta alla classifica augura a tutti i radioascoltatori una serena notte